Mi accusa di averla caluniata, ho dato le mie giustifiche, non sono state accettate, ho sposato, ho un bambino di 8 anni, una bambina di 5, una moglie che ha una grave patologia. Le posso dire che la banca, gli ho mandato la lettera di licenziamento e mi ha rifiutato la sospensiva del mutuo, almeno per 10 mesi, non l'ha accettato. Già ne ho una bolletta scaduta, ho un prestito personale che ero convinto di essere coperto anche lì di un'assicurazione in casa di perdita di lavoro, perché è un grande prestito personale. E anche lì mi hanno mandato la raccomandata alla richiesta che avevo fatto e me l'hanno rifiutata. No, io resterò qua, la mia protesta finirà, poi nei prossimi giorni dirò a tutti dove finirà la mia protesta. Se vogliono una vittima a Caserta, io la darò.